Orevole Rampelli, la cosa che voi chiedevate da tempo, le dimissioni del Sindaco Marino, sono arrivate, c'è anche l'ufficializzazione. Cosa succede adesso? Le dimissioni di Marino sono letteralmente la fine di un incubo. Chiediamo intanto al Governo di indicare immediatamente un commissario prefettizio e chiediamo che questo commissario prefettizio sia una persona al di sopra delle parti. Difidiamo il Partito Democratico da prendere a pretesto la scadenza dell'anno santo per rinviare le elezioni di un anno. Fratelli d'Italia, l'Alleanza Nazionale chiede il voto immediato, se necessario, anche a fine novembre. C'è tutto il tempo per poterlo fare, no a giochi di palazzo.